Nel 1860 Napoli ordina la fucilazione di contadini, Castelvetro è un paese in Emilia-Romagna. Qui nasce Enrico Cialdini nel 1811, generale dell'esercito piemontese nella campagna militare dell'unità d'Italia al sud, ma il generale Cialdini si macchia di numerosi fatti violenti. Nel 1860 Napoli ordina la fucilazione di contadini e soldati borbonici in possesso di armi o di ribruciarli, mutilarli, crocifiggerli. Contro i briganti partigiani conduce repressioni sanguinarie. Muore nel 1892 e in tutta Italia gli dedicano luoghi e monumenti, ma l'ombra del suo operato si allunga sulla storia italiana. E cosa c'entra tutto questo oggi? Per esempio a Benito Mussolini diversi comuni hanno tolto la cittadinanza onoraria, mentre su personaggi altrettanto controversi continuano a rimanere strade, targhe e monumenti. Come a Modena, dentro il palazzo comunale c'è una targa celebrativa dedicata ad Enrico Cialdini.